Signor Ferretti, oggi sto proprio male. Ho 38 di febbre. Arrivederci. Ma l'anni di stagione? Oggi puoi adottare una mucca. Latte fresco, buono, sano, tutti i giorni. Alto lai, virus. Con una mucca in salotto, la vita è un muggito di allegria. È un presidio zootecnico leggere attentamente il cornetto illustrativo. Che è un angloso, un francese... Un'inglese, un'francese e un'italiana. C'è un inglese, un'francese e un'italiana che sono sopra la torre. C'è un inglese, un'francese, sopra la torre degli altri. L'ansia da prestazione può farsi insostenibile. Stupisci i tuoi amici con le nuove scarpe MoveX One. Con MoveX One ti teletrasporti in un istante dove si realizzano i tuoi sogni. MoveX, i sogni, a portata di scarpa.